Marco, Atalanta riduce da una sconfitta, tra poco avrete il doppio impegno con Napoli e Torino. Volevo un tuo parere sul momento attuale della tua squadra. Arriviamo da una sconfitta che brucia, è stata una domenica negativa su tutti i punti di vista per tutti e adesso abbiamo la fortuna che tra due giorni giochiamo in un'altra partita importante e vediamo di risolverci. Che clima c'è a Bergamo dopo questo inizio di campionato? Alla fine non bisogna battersi nei momenti di difficoltà e non bisogna neanche saltarsi nei momenti più belli. Bisogna solo cercare di lavorare e preparare ogni partita come se fosse la più importante ogni domenica. Arriva il Napoli, si è sbloccato Iguain, si è sbloccato Amsic. Si sono presentati con questi sei gol alla vostra partita di mercoledì? Sì, è un avversario come tutti gli altri. Noi prepariamo ogni domenica allo stesso modo, quindi il Napoli non ci fa paura e ce la giochiamo in casa.